John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video a grande richiesta, quest'oggi andremo a fare il mercato che farei del Como Avete capito bene il mercato che farei del Como? L'andremo a fare oggi insieme su questo canale Vi ricordo che già sono usciti dei video tipo Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Bologna e Torino Credo di non aver escluso nessuno, mi raccomando non ti dovete seguirmi perché continueranno ad uscire i mercati che farei Oggi come vedete qui sotto ci sono 25 milioni di euro di budget a disposizione Perché penso che il Como appena arriva in Serie A qualcosa vuole fare per costruire la squadra visto che ha la proprietà più ricca del mondo Però chiaramente dall'altra parte non penso che sperpererà soldi in modo completamente casuale Anzi credo che comunque utilizzerà soldi in modo intelligente solo per costruire e non per distruggere Ma soprattutto non ho messo nessun monte in gaggi perché vi dirò più o meno quanto andranno a prendere i calciatori che andremo ad acquistare Però non possiamo fare un parallelismo tra il Como, il monte in gaggi del Como in B e il monte in gaggi del Como in A È chiaro che i calciatori che arriveranno dovranno essere più forti e con un monte in gaggi maggiore e qualche colpetto esotico Dobbiamo anche farlo per far salire il valore del brand Detto questo possiamo gettarci in quello che sarà il video di oggi Da quanto ho capito il Como di Fabricas dovrebbe giocare con una sorta di 4-2-3-1 Quindi con il trequartista, le due ali e la punta, i due mediani, un mediano e una mezzala o i due mediani Insomma comunque due sulla mediana Ci tengo anche a sottolineare un'altra cosa Se avete seguito un pochino il Como in B è chiaro che chi è tifacomo saprà molto più di me Quindi ve lo dico prima, magari io agli occhi di chi non l'ha seguito sembrerò molto più preparato Chi invece ti fa Como e lo segui ogni giorno, a parte è Bolchini, non so perché chiedo Bolchini ma va bene uguale Agli occhi di chi invece segue il Como io sembrerò un coglione ma ci sta Io cercherò di portarvi qualcosa di divertente ma secondo me il Como non ha bisogno di cambiare chissà che cosa Cioè andremo a fare qualche acquisto, io 2, 3, 4, 5, ne conto diversi perché quei 6, 7, 7 acquisti ho messo in totale Che non sono pochi però non vado a rivoluzionare la squadra perché secondo me l'ossatura dei Comaschi è molto interessante ed è molto valida Quindi visto che la squadra è già forte secondo me rivoluzionare ha sempre molto poco senso Detto questo, quello che dobbiamo dire l'abbiamo detto, partiamo dai portieri E partiamo da Semper, Vigorito, Bolchini e Ghidotti Allora vi dico subito che Ghidotti come arriva se ne va V'anticipo anche che se vedete calciatori in azzurro sono calciatori che in realtà tornano dal prestito Anche se poi qui a l'onore del vero non abbiamo il discorso del Montengaggi perché non l'abbiamo proprio considerato Però comunque torna dal prestito ma Ghidotti come arriva lo ripresto in questo momento non ha senso tenerlo Mi tengo piuttosto Bolchini come terzo perché secondo me non sarebbe male da tenere come terzo Mentre Vigorito gli scadi il contratto lo saluto a parametro zero, lo faccio partire e risparmio quei 200.000 euro che percepisce di ingaggio Detto questo, allora io andrei anche avanti con Semper che ha 26 anni e che con il Como ha fatto molto bene Però qua un portiere d'alternanza lo prenderei e qua io farei una scommessina Lo so che è una scommessina e che è un rischio però se gioca Semper tutto l'anno per me non è un dispiacere Cioè a me non me ne frega nulla, mi può andare anche bene Per questo vi dico che comunque io un tentativo lo farei perché se esplode, se riesplode, se si riprende Abbiamo preso un gran portiere pagandolo zero Infatti a parametro zero tra l'altro percepisce 300.000 euro quindi una cifra veramente esigua Vado a prendere Karius Ora non mi sono inventato nulla e magari i tifosi del Como diranno pure Oh mio Dio ma Karius ma quello scarzone che ha fatto la doppia papera Ragazzi Karius è svincolato, vuole andare al Como, si sarebbe proprio proposto al Como Noi il portiere ce l'abbiamo che è Semper, io non posso, o prendiamo Choa qui Ad esempio credo c'è sto con la Salernitana, lo mettiamo come secondo e abbiamo un esperto come secondo Però comunque io piuttosto farei giocare Semper perché c'ha 26 anni Perché il nostro portiere è quello che ci ha portato in Serie A Quindi volendo è anche una cosa abbastanza inutile Oppure mi prendo Karius e quindi ho Semper e Karius E per me non sarebbe un acquisto sbagliato Anche perché vi ripeto che uno costerebbe più o meno 100.000 euro in più l'anno di Vigorito Due, quando al tempo prima che facesse la doppia papera era un signor portiere Lui comunque non so se è sposato o fidanzato o compagno Però sta con Diletta Leotta e credo che lei stia aspettando anche un figlio Quindi diventerà padre se mi ricordo bene O già ci è diventato, non ricordo Comunque fatto sta che è legato strettamente e stava cercando di trasferirsi in Italia Quindi la trattativa sarebbe facilissima Quella che porterebbe eventualmente Karius al Como Non dovremmo provare niente di strano ad essere precisi Detto questo, in porta avremmo Semper, Karius, Bolchini Sempre 25 milioni di euro di budget E andiamo a vedere i difensori centrali Per quanto concerne i difensori centrali abbiamo Odental Io spero che la pronuncia sia giusta Curto, Goldaniga, Barba, Solini e Jack Allora, qua va fatto un discorso A me Odental piace Ha fatto da prima parte di stagione ad altissimo livello Poi, nella seconda parte di stagione Le ultime, in realtà, le ultime boh Sei partite sempre Ha giocato sempre la coppia Goldaniga-Barba Le ultime sei partite tutti le hanno fatte Goldaniga-Barba con Odental fuori Ora, io non lo so Chi sarà titolare tra Goldaniga-Barba e Odental Però io me li tengo tutti e tre Perché secondo me sia Goldaniga che Barba possono affrontare la Serie A Odental può affrontare la Serie A Mentre Solini come panchinaro, come quinto addirittura In una difesa comunque a quattro Quindi sarebbe, ci avrebbe due titolari davanti, due panchinari E poi lui me lo posso tenere Curto non lo riscatto Anche perché al ritorno non ha giocato praticamente mai È partito che gioca ma poi non ha giocato praticamente mai Ci risparmiamo 200.000 euro e lo lasciamo andare via Così come vado a prestare Jack Che è un ragazzino della primavera Che prende 100.000 euro e che in questo momento non giocherebbe a Cuomo Quindi lo vado a far partire Provo a fare un investimento Un investimento che non mi dispiacerebbe E vado a prendere per 6.000.000 euro dal Napoli Ostigard Allora quando Ostigard ha giocato al Genoa Aveva fatto molto molto bene Poi a Napoli ha fatto fatica ad emergere Ma il livello era molto più alto Qui al Cuomo secondo me potrebbe sortire un po' lo stesso effetto Che ha sortito per esempio Pessina a Monza Cioè Pessina passando da Bergamo a Monza E può essere un buon giocatore E può essere un gran calciatore Ostigard potrebbe fare la stessa cosa A noi un difensore serve in questa squadra È vero che Ostigard è maggiormente capace di giocare a 4 rispetto a 3 Però ragazzi a Napoli ha giocato a 4 Cioè bene o male Se sei un difensore Fai il difensore È vero che a Genova giocava a 3 Ma a Napoli giocava a 4 Quindi secondo me si potrebbe anche fare 6 milioni non sono tantissimi Sono una cifra che potremmo anche spendere volendo E credo che il Napoli alla fine della fiera Te lo darebbe anche Anche perché Ostigard non gioca praticamente mai a Napoli E tu gli staresti dando una certezza Non è che lo staresti prendendo in prestito con diritto Ma gli staresti votando soldi per Ostigard Secondo me sarebbe perfetto Per giocare vicino a Totental O a Goldenica o a Barba Quindi qua poi Secondo me il titolarissimo è Ostigard E poi decidiamo chi voler mettere vicino Poi può giocare anche Goldenica e Barba Uno vicino all'altro in Serie A Però io comunque qualcosa lo devo fare Detto questo Avremo in questo caso Per la precisione 19 milioni di euro 19 milioni di euro Sto capendo perché avremo Ah sì perché sono partite a 25 Ma ero un attimo intrippato Avremo 19 milioni di euro Avremo Odental, Ostigard, Goldenica, Barba, Solini E appunto quei soldi a disposizione Andiamo a vedere la fascia Precisamente quella sinistra Sulla sinistra abbiamo Sala Che quest'anno ha fatto il titolarissimo E ha fatto molto 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 bene Al Como E abbiamo Ioannou Come cazzo Allora si pronuncia Che io comunque come terzo me lo tengo Allora vi dico la verità Nella mia idea c'è da tenere Tre di destra e tre di sinistra Perché comunque Qua poi Essendo che Una squadra che sale Deve ancora capire Chi è adatto e chi non è adatto Alla Serie A Perché ad esempio Non sappiamo se Sala È adatto Ha fatto bene in B Ma è adatto all'A Non lo possiamo sapere Allora personalmente io Me li terrei entrambi Però qua un titolare Lo vado a prendere Un titolare che costa 6 milioni di euro Cioè più o meno È stato pagato Una cifra molto vicina a quello là Forse proprio quella Prende 500 mila euro l'anno Quindi manco tanto E vado a prendermi Doig Che per me sarebbe Il titolare sulla sinistra Arrivare in Serie A E andare a prendere Doig Che quest'anno ha fatto Così e così al Sassuolo Ma Il Sassuolo è retrocesso E ne hanno fatto male tutti quanti E proprio per questo Secondo me sarebbe Uno di quei calciatori interessanti Che potrebbe fare al caso nostro Ci permetterebbe Di aggiungere qualità Sulla fascia sinistra E non sarebbe Secondo me Un colpo nemmeno troppo irreale Nel senso che Comunque stiamo parlando Di un giocatore Che è retrocesso Che ritornerebbe volentieri in A Che il Sassuolo ti darebbe Perché un po' per il Monte In Gaggi 500 mila euro Non è tantissimo Ma è comunque parecchio Una squadra che retrocede Un po' perché Il Cuomo in A E lotta Per rimanerci Ma c'è anche una proprietà forte Quindi è probabile che ci rimanga Doig spingerà per andare Quindi io lo andrei a prendere Avremo sulla sinistra Sala Doig Ioannau 13 milioni di euro Di budget a disposizione Andiamo a vedere adesso L'altra fascia Sulla fascia destra Oh mio Dici sono due Cassandro Ma perché Vabbè sulla fascia destra In realtà Avremo Vignali Che vado subito a vendere A un milione di euro Immediatamente Così ci faccio un po' di soldi Kovacic E Cassandro Cassandro me lo tengo Come vice Perché ha fatto bene Molto bene In questa stagione A Cuomo In B E quindi secondo me Il vice O comunque il titolare In alternanza Lo può fare Mi voglio tenere anche Kovacic Perché Perché ha fatto una stagione In prestito E ha fatto una stagione Clamorosa Ha fatto una cosa come tipo 7 gol e 15 assist Da esterno Quindi Personalmente Me lo terrei Molto molto volentieri Però qua Andrei a fare un colpetto Di quelli interessanti Come avrete visto Sto costruendo una squadra Tra esperienza Giovani Prospetti E quantità Doiga ad esempio Rappresenta la quantità Ad esempio Ostigard rappresenta Una certezza Adesso prendiamo un esperto Non so se verrebbe Dovrebbe Ri 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 Ridursi l'ingaggio Perché prende 4 e mezzo Ma io penso che Visto che va via Parametro 0 E nessuno gli darebbe quella cifra A 1 e mezzo Riusciamo anche a prenderlo A stagione Vado a prendermi Farei questo tentativo qua Lucas Vazquez Del Real Madrid Sic ma perché Lucas Vazquez Dovrebbe arrivare al Como Ragazzi questo è svincolato Va via Parametro 0 E pare che non se lo caghi Nessuno Fa il terzino Sarebbe un colpaccio Per noi a livello A livello mediatico Perché tutti parlerebbero Di Lucas Vazquez A Como Non è un giocatore finito Perché ha 31 anni Fa veramente 3 o 4 anni Ad alti livelli A Como E secondo me È bene anche per il giocatore Perché Como è una bella città Ti trasferisci in Italia In Serie A Con una proprietà seria Che ti può dare comunque 1 e mezzo l'anno Per 3 o 4 anni Quindi non parliamo di una società Magari metti anche nella clausola Che se i retrocedono Puoi svincolarti Oppure no E quindi decidi tu E Arriverebbe a 0 Dal Real Madrid E poi Viverebbe a Como Cioè in una città bellissima Sul lago di Como E in un posto Dove tutti sognano di vivere Secondo me Sarebbe Diciamo Un colpo interessante Che Unito a Carius E a un altro calciatore Andremo a prendere dopo Farebbe un trio di figurine Che però non so troppo Manco nemmeno figurine Secondo me Quindi sulla destra Avremo Lucas Vazquez Kovacic E Cassandro E 14 milioni A disposizione Andiamo adesso A vedere I centrali di centrocampo Qui Il Como ha Abilgard Bellemo Braunoder Cone Baselli E Arrigoni Che torna dal prestito Arrigoni Come torna dal prestito Lo ricacciamo in prestito Perché non ci facciamo nulla Al momento va bene così Baselli Va via a 0 E io Lo lascio andare via a 0 Dispiace Però tanto non è che abbia giocato Chissà quanto E quindi mi va bene così Cone Cone ragazzi Era in prestito da noi Prendeva anche 300 mila euro Ma non è stato praticamente Mai convocato Non è stato più convocato Nell'ultimo periodo Questo vuol dire che Fabregas Probabilmente Non aveva Intenzione di farlo gioare Non ha intenzione di Vederlo nel progetto E quindi anche Cone Lo facciamo partire Qua non ci servono 200 centrocampisti Ce ne servono appena 4 E poi abbiamo anche 2-3 quartisti Quindi non è un problema Giocano 2 Detto questo Abilgard me lo tengo Come potenziale titolare Bellemo Me lo tengo Come capitano E potenziale titolare Lo metterò titolare Tra la mia squadra Bellemo Però potrebbe giocare anche Abilgard E sono due ottimi calciatori Per quanto concerne Braunoder Braunoder è arrivato a gennaio E le ha giocate tutte Quindi perché non tenerlo Ecco Anche Braunoder Secondo me È uno di quei calciatori Che sarebbe opportuno tenere E quindi lo vado a tenere Detto questo Detto questo qui a centrocampi Invece vado a fare un colpo Super interessante Prendo 7 milioni di euro E li spendo Per un 22enne Che percepisce 500 mila euro A stagione Ovvero Eric Martel Del Colonia Centrocampista Molto molto forte 22 anni Ripeto È un mediano È perfetto Per quello che ci serve A noi Ci darebbe un sacco Di qualità Aggiungo anche Che probabilmente Costerebbe anche di più Se non fosse che il Colonia È il retrocesso E quindi lui avrebbe Tutte le intesine del mondo Da andare via da Colonia Per riaffermarsi In un campionato Top 5 E quindi Io Martel Me lo prenderei Martel È quell'idea Che ti viene Da prendere Per rilanciarti A centrocampo Cioè questo è proprio Il nome super interessante Se questo esplode Tra un anno Lo vendiamo veramente A 40-50 milioni di euro È chiaro che deve esplodere Però se ce la fa Secondo me È veramente Un colpo ottimo In prospettiva Non so se lo conoscete Martel Ma è veramente tanto forte A centrocampo quindi Avremo Martel Bellemo Braunoder Abilgard E 7 milioni di euro A disposizione Per concludere la squadra Mancano ancora Ali sinistre Ali destre Trequartista E punta Partiamo dalle ali destre Sulla fascia destra Abbiamo Strefezza Iovine Ballet Credo si dica Ballet O Baie E Kerrigan Alla Kerrigan Coma rivalo ripresto Ciaone Mentre i due Iovine e Baie Ballet Decido di tenerli Entrambi Non mi dispiacciono Nessuno dei due Entrambi in B Hanno fatto benino Credo che siano Molto interessanti Personalmente Come giocatori Ma soprattutto Potrebbero giocarmi Anche adattati Sia a destra Che a sinistra Come panchinari E quindi me li tengo Però il vero colpo Del mercato del Como Lo facciamo qua Perché? Perché Strefezza È arrivata a gennaio E ha cambiato La squadra da così a colà È chiaro quindi Che i comaschi Vorranno tenerlo E bisogna pagare 4 milioni e mezzo Di euro Per riuscire a trattenerlo E io ragazzi Li pago Immediatamente Perché Strefezza Ha fatto veramente La differenza Con il Como Per il Como Quindi io credo Che sia fondamentale Come calciatore È un titolarissimo Fantastico Di questa squadra Un giocatore Che se non avessi Andrei a prenderlo Pagandolo 7, 8, 9, 10 milioni E quindi mi va bene così E mi tengo Strefezza Me lo prendo E me lo riscatto Molto molto volentieri Avremo Strefezza Jovine e Ballet E 2 milioni e mezzo A disposizione A questo punto Vi faccio vedere La fascia sinistra Sulla fascia opposta Abbiamo Da Cugna E Shaia Allora Da Cugna ragazzi È fortissimo A me Da Cugna Piace tantissimo L'ultimo anno Ha fatto 7 gol Che non è che so tantissimi Ma comunque li ha fatti E c'ha 23 anni È molto giovane Ve posso dire Io penso Che Da Cugna Sia uno di quei calciatori Che non ha bisogno Di Far panchina O fare esperienza Per essere lanciato Sta facendo bene Ha fatto bene in B Allora che gli si dia La possibilità Di continuare a fare bene Da Cugna Me lo tengo E me lo tengo Come titolare E vi dirò di più Shaia lo ritengo Un buon vice Quindi ho qua Non cambio nulla Perché sulla destra C'ho Strefezza Sulla destra c'ho Da Cugna E poi c'ho Bayat Jovine E Shaia Che possono giocare Come panchinari Sulle fasce Quindi non vado a prendere Ulteriore gente Ma rimango così E sono contento così Detto questo Vi faccio vedere Invece immediatamente La tre quarti campo Sulla tre quarti abbiamo Verdi Guarda un po' Chi si rivede Simone Verdi E Razzi Allora Razzi Lo ha da prestare subito C'ha 17 anni Ha giocato pochissimo In B Forse mai Quindi figuriamoci Se giocherai in A Per quanto riguarda Verdi Raga ma Verdi Ma Verdi ragazzi Si è rivitalizzati In B con il Como Lo scorso anno Ha segnato 8 gol È un titolare E anche qua La mia domanda è Perché dovrei andare A trovare un sostituto Di Verdi Se C'ho il titolare Che è Verdi Cioè Comunque Verdi È un giocatore per me Da Serie A Come lo è Strefezza Come lo è da Cugna Erano in B Ma era un caso Che fossero in B Quindi non è che se saliamo Dalla B alla A Dobbiamo per forza Cambiare tutto Era completamente Un caso Che Verdi fosse in B E quindi io lo confermo E lo tengo trequartista Qui però voglio prendere Un giocatore Che può giocarmi Trequartista Alla destra Ed alla sinistra Lo vado a pagare Un milione e mezzo di euro È un giocatore buono Discreto Niente di eccezionale Prende 100 mila euro Prendeva 100 mila euro Alla Salleritana Perché ora lo compro io Con la Salleritana Che è retrocesso Vado a prendermi Castano Castanos A me non dispiace Non dispiace per niente È un buon giocatore Ha fatto sempre Molto molto bene Farebbe tranquillamente E sarebbe il primo panchiatore Di tutti Cioè di Verdi Di Strefezze Di Dacugna E sarebbe ottimo Secondo me Perché giocherebbe Anche con una discreta continuità Inoltre gli permetteremmo Di tenere la categoria Di confermare la categoria Perché altrimenti scenderebbe E quindi Sulla trequarti Noi avremmo Verdi Avremo Castanos E un milione di euro Di A disposizione Che però V'anticipo Non so Se spenderemo Mai più Perché? Perché adesso Non ne abbiamo bisogno Detto questo Andiamo a vedere Gli attaccanti In avanti abbiamo Cutrone Nsamè Gioacchini Gabrielloni Fumagalli E ritorna Cerri Dal prestito Come ritorna Cerri Lo vendo a Un paio di milioni Così come anche Nsamè Lo vendo a Due tre milioni di euro Quindi alla fine Io poi ho lasciato uno Ma alla fine Tra i tre quelli Due di quelli Sono cinque Uno che rimane Sono sei Potevamo spendere Anche 20 milioni Per fare la squadra Non c'erano bisogno Di 25 Però va bene uguale Fumagalli E lo vado a prestare Perché è molto giovane E c'ha bisogno di crescere In realtà qui avremo Anche Chinetti E vado a prestare anche lui Così come torna Mustafà E vado a prestare anche lui Detto questo Ci rimangono Cutrone Gioacchini E Gabrielloni Allora vi posso dire Io Gioacchini me lo tengo In B ha fatto nove gol Non so se è pronto Magari fa un anno Poi lo vendiamo Lo prestiamo Eccetera Però me lo tengo E lo tengo nel pacco Anche Gabrielloni Che non mi dispiacerebbe Come quarto attaccante Perché comunque L'attaccante Che andremo a prendere Può fare anche La seconda punta Ora ci arriviamo Cutrone me lo tengo Ha fatto benissimo In B Ha fatto 14 reti In serie B Quindi sarebbe follia Non tenermelo Però mi vado a prendere Un giocatore Che invece potrebbe Darmi un po' di lustro E un po' di qualità Sto parlando di Alexis Sanchez Che avrebbe rifiutato Il Panathinaikos Per rimanere in Italia Probabilmente prende 2.8 Ma passerebbe a prendere 1.2 circa E arriverebbe a parametro 0 E un altro parametro 0 Che ci permetterebbe Di dare continuità A Cutrone Io credo che Tutti questi giocatori Strefezza, Verdi E Cutrone Hanno in comune Il fatto di Aver pensato Di essere sempre pronti Al grande salto Anche col Daniche Barba E non averlo mai fatto Questa è la possibilità Di farlo Con il Como E quindi Io voglio provare A farglielo fare Io voglio tenere anche Cutrone titolare Poi se fa male C'è Sanchez Sanchez può tranquillamente Far bene E anche Ripeto Giocchini sa come si segna Gabrielloni sa come si segna Quindi non è che Siamo disperati Se Cutrone fa un'annata Da tre gol stagionali Non siamo disperati Però abbiamo Mototti c'è giocatori Come si segna Se no a gennaio Poi andremo a prendere Un attaccante Detto questo Avremo Cutrone Sanchez Giocchini Caprialloni E appunto Ci rimangono 6 milioni Ma non ce ne facciamo nulla Andiamo a vedere La formazione finale La formazione finale Sarebbe un 4-2-3-1 Con Carius O Semper In porta Fate voi Odenta Le osti Card centrali Ma anche col Daniche Barba Fate voi Lucas Vazquez a destra Doig a sinistra Con Sala in panchina Bellemo o Abilgard Io ho messo Bellemo Perché è il capitano Ma per me Abilgard È più forte Vicino a Martel Verdi sulla tre quarti O Castanos Da Cugna Strefezza E poi davanti Cutrone Ma anche Alexis Sanchez Che può giocare anche Accompagnando la punta Tipo al posto di Verdi Se vogliamo Ad esempio davanti Possiamo far giocare anche Sanchez Al posto di Verdi Verdi a sinistra Castanos a destra E Cutrone davanti Per dire oppure Sanchez Punta Castanos tre quarti Sta Strefezza Da Cugna Cioè veramente con i davanti Quasi tutti possono alternarsi Cioè giusto Giusto solo Cutrone Sanchez Di quei De quei Due, tre, quattro, cinque, sei Possono fare la punta Mentre Strefezza Verdi Castanos E Da Cugna Non possono fare la punta Però per il resto Tutti gli altri Possono alternarsi Sanchez può fare praticamente Tutti i ruoli Questo ragazzi Era il como Che farei io Fatemi sapere la vostra In un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Io vi ringrazio Tantissimo mi piace Buocelo all'alene come sempre Ciao a un prossimo video